In un passaggio conciso ma significativo, la Corte d'Appello dell'Aquila ha delineato un orientamento giurisprudenziale importante riguardo il caso delle azioni extercas. Contrariamente al Tribunale Civile di Teramo, che aveva respinto il ricorso dei sei risparmiatori ritenendo le informazioni fornite dalla banca corrette, la Corte d'Appello ha riconosciuto che le informazioni date ai clienti riguardo i rischi delle operazioni erano inadeguate. Gli avvocati Renzo Di Sabatino e Massimo Cerniglia, rappresentanti della Feder Consumatori, hanno assistito i sei risparmiatori in questa battaglia legale che ha portato ad un risarcimento totale di circa 100.000 euro. Sì, l'orientamento ormai mi sembra consolidato, soprattutto della Corte d'Appello dell'Aquila, lo ripeto, è una soddisfazione non solo da un punto di vista professionale ma anche da un punto di vista territoriale perché in questo modo si restituiscono a questo territorio delle somme che erano e sono dei risparmiatori. La Corte d'Appello ha anche evidenziato che questo è in linea con precedenti decisioni su casi simili, confermando l'intenzione di mantenere tale orientamento. Hanno accolto le nostre tesi secondo le quali essenzialmente quei prodotti potevano essere collocati ma con procedure e modalità diverse sia di trasparenza che di informazione anche in un periodo in cui la banca cominciava ad avere delle problematiche. Va specificato che i fatti contestati risalgono al periodo precedente al commissariamento di Tercas nel 2012, prima quindi delle entrate in scena della Banca Popolare di Bari. Parlo comunque di una risposta che la giustizia ha dato a cittadini che a differenza di altri risparmatori di altre banche non hanno avuto nessun tipo di aiuto da parte dello Stato dopo che si è verificato sostanzialmente un crack dell'istituto bancario come è avvenuto in Toscana, in Veneto e così via. Siete in attesa di altre sentenze? Sì, ce ne sono altre in corso, ci sono anche alcuni procedimenti che sono dinanzi alla Corte di Cassazione e rispetto alle quali siamo estremamente fiduciosi.